Un'estate in cui protagonista sarà l'intera comunità, grazie ad un cartellone di circa 320 che conferma le principali rassegne della stagione e apre ad appuntamenti quotidiani dislocati tra borghi e quartieri. Si chiama Pesaro, verso l'estate e oltre il programma che racchiude l'intero panorama di manifestazioni estive per la stagione 2021, presentate dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Daniele Vimini a bordo del WePesaro Express, rinnovato con nuove fermate. È una guida molto importante perché permette di dire giorno per giorno cosa accade ai turisti che arrivano, ma anche ai pesaresi di orientarsi, quindi creare quel connubio che piace molto a chi viene a Pesaro e di trovarsi non tanto in iniziative apprezzamento e turistica, ma di condividere spazi, emozioni e serate con i pesaresi e anche con il loro modo di essere. Detto questo, a parte le iniziative che abbiamo presentato, oggi tra le altre il WePesaro Express in versione estiva che potenzia ovviamente quello che è il servizio invernale del periodo natalizio, non solo collegando il Vene Trieste, non solo collegando il Centro e Mare, ma la novità di quest'anno e simbolico anche il punto in cui ci troviamo è l'arrivo in Baia Flaminia passando per i due porti. La rassegna Pesaro, i tuoi spazi tra borghi e quartieri, animerà con un appuntamento al giorno ogni quartiere della città. L'Anfiteatro del Parco Miralfiore sarà per l'intera stagione il palcoscenico degli spettacoli inseriti all'interno di Miral Teatro d'Estate, mentre il Centro Storico ospiterà cibo, musica e intrattenimento grazie a diversi appuntamenti, tra cui il San Pietrino Summer Street ogni martedì, Via Cavour in Festa e il Mercatino dell'Antiquariato. Luglio, tra i vari eventi, segnerà il ritorno da giovedì 1 a sabato 3 di Pop Sofia e della Mezzanotte Bianca dei Bambini, fissata invece per domenica 4 dalle ore 18. Ad agosto si alzerà il sipario sulla 42esima edizione del Rossini Opera Festival, che andrà in scena dal 9 al 22 nelle cornici del Teatro Rossini, del Teatro Sperimentale, dell'Auditorium Scavolini e della Vitrifrigo Arena. Il 10 agosto invece sarà la volta di candele sotto le stelle, che quest'anno si allarga anche a Gradara e Gabicce. Con fiducia andiamo avanti a confermarlo, andiamo avanti ad estenderlo alla riviera del San Bartolo, quindi con Gabicce Mare. L'anno scorso è stato un abbraccio fantastico, con le candele in acqua fino a tutta la costa di Gabicce e ovviamente anche a Gradara, nel borgo di Gradara, anche con loro collaboreremo per fare in modo che le candele non riflettano in questo caso l'immagine sull'acqua, ma possano, con anche la suggestione di Paolo e Francesca, di uno dei borghi più belli d'Italia, del Borgo dell'Amore e anche dell'anno dantesco, essere un grande protagonista di questa notte delle candele, che confermiamo per il 10 agosto, poi come sempre salvo aggiustamenti per le condizioni di meteo e dell'acqua. Tanti quindi gli eventi presenti in cartellone, che dal 10 al 12 settembre vedrà anche il ritorno della fiera di San Nicola. Il vice sindaco Vimini ha inoltre annunciato che la stagione turistica potrebbe contare su appuntamenti e serate organizzate in Piazzale della Libertà. Siamo già in realtà al lavoro, a proposito di iniziative turistiche in generale, che è ad esempio Piazzale della Libertà, dal 10 luglio in cui si prevede che possono riaprire anche le discoteche, che possa essere, ad esempio, tornare a essere un paio di volte alle settimane anche un luogo per il ballo, per il liscio, per i turisti e per l'accoglienza, come sempre è stato. Magari posso ospitare anche di concerti, quindi non escludiamo, soprattutto per il periodo di candele, che poi abbraccia anche il ferragosto, di inventarci qualcosa di estemporaneo, rispettoso delle normative che ora si stanno via via allentando, e che possa tornare a far respirare quel clima anche di festa, responsabile, ma che ha fatto innamorare tanti turisti di Pesaro e anche fatto tornare regolarmente a visitare la nostra città.